Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Una notizia sorprendente ha agitato l'attenzione del gossip, alimentata dall'ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Le voci di una possibile riconciliazione tra lui e l'Argentina avevano circolato, ma ora un evento diverso sta monopolizzando l'attenzione. Una bomba di gossip è stata rilasciata su Antonino Spinalbese, e sembrerebbe riguardare il suo imminente matrimonio, una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Nonostante le speculazioni su una possibile pace con Belen, un nuovo capitolo si apre per Spinalbese. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip ha recentemente condiviso un gesto sui social network che ha scatenato molte chiacchiere. Antonino Spinalbese, noto anche per essere stato associato a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha postato nelle sue stories un'immagine della sua mano con due anelli. Mentre uno di essi è dedicato alla figlia Luna Marie, l'altro sembra essere un gioiello femminile, alimentando così le speculazioni sulla possibilità di un fidanzamento ufficiale e persino di un prossimo matrimonio. Sebbene alcuni non escludano l'idea che il gioiello possa essere un ricordo di Belen. Considerando il recente riavvicinamento, altri ritengono probabile l'ipotesi di una nuova compagna. Antonino Spinalbese, tuttavia, non ha ancora fornito chiarimenti in merito, mantenendo avvolto nel mistero questo nuovo sviluppo nella sua vita sentimentale. I fan, intanto, sono in frenetica ricerca di ulteriori dettagli su questo inaspettato colpo di scena nel mondo del gossip. E voi che ne pensate di questa unione? Fatecelo sapere nei commenti.